eccoci allora nicola io ho due prodotti insomma che tu ci puoi presentare partendo direi da amazon e ti faccio una domanda perché noi siamo reduci anche dai conti delle big tech che insomma non sono stati proprio splendidi effettivamente qualche segnale qualche indizio di contrazione a livello economico c'è si registra negli stati uniti addirittura ecco ho letto vari articoli dove si parla poi di una nuova era per quanto riguarda le big tech cosa ci puoi dire invece della scelta di amazon per quanto riguarda il certificates allora qui entro nello specifico valentina del rialzo dei tassi no che quello che ha dato chiaramente da un anno a questa parte particolarmente fastidio al settore tecnologico un aumento del costo del denaro che ha chiaramente ridotto le loro possibilità di profitto i loro margini e amazon non è solo insomma il corriere che ci suona la porta e ci consegna i pacchi amazon è anni che si sta diversificando e fa praticamente di tutto quindi io penso che insomma se non è una delle prime aziende al mondo poco ci manca penso che qua andrei anche in condivisione dello schermo possa tornare a sovraperformare e a recuperare tutto quello che ha perso nell'ultimo anno con il calcolatore alla mano io parto dai massimi storici che in realtà amazon ha fatto a luglio 2021 quindi anticipando la fine della salita dei mercati perché gli indici azionari massimi li hanno fatti a novembre 21 barra gennaio 22 da quei massimi amazon e non è nemmeno stata la peggiore ha perso un 57 per cento di valore io penso che piano piano potrà recuperare tutta questa perdita ci vorranno chiaramente anni e se i tassi e il loro rialzo ha dato fastidio ai tecnologici mi ricollego a quanto detto prima un altro quarto di punto di aumento tassi forse tre quarti di punto per tre riunioni di fila e poi la fed ha finito di aumentare i tassi quindi finalmente seppur con tassi alti perché poi non è che la fede li diminuisce li manterrà diciamo abbastanza elevati perché arriveremo a un 5 5 e mezzo per cento per parecchio tempo però finalmente si può un titolo tecnologico come amazon ma anche tutti gli altri che compongono il nasdaq scrollarsi di dosso questo pensiero del dell'aumento tassi perché finalmente seppur alti verranno fermati quindi rimarranno stabili per per un po di tempo chiarissimo chiarissimo cosa ci dici invece ecco del prodotto specifico del tuo turbo su su amazon allora ho scelto questo turbo pen and così almeno una leva variabile non ho una scadenza e ho la possibilità di portare avanti un'operazione multi dei anche per per qualche mese senza senza alcun problema ho un piccolo costo di finanziamento chiaramente perché non avendo la scadenza pago una sciocchezza ogni giorno una cifra molto molto piccola però non ho il pensiero della scadenza così me lo posso portare avanti quanto voglio la distanza della barriera la vedi qua meno quasi meno 21 per cento l'ho scelta non per la percentuale di distanza ma per il livello di barriera il livello di di knock out che poi rappresenta lo stop loss intrinseco no che c'è dentro ogni certificato cioè arrivo lì e la posizione diciamo mi viene mi viene chiusa automaticamente in perdita lo dico per per semplificare questo prezzo è a 80,24 è un prezzo direi quasi perfetto perché se torno sul grafico di amazon abbiamo i minimi di questa crisi che ha caratterizzato tutto il 2022 che sono stati fatti esattamente il 6 di gennaio se non erro a 81 e 43 quindi ho una barriera che è poco sotto se fosse stata un pochettino più larga sarebbe stato diciamo ancora meglio però comunque con lo stop loss con con il knock out sono sotto i minimi che ha fatto amazon in questa lunga discesa da meno lo dicevamo prima 57 per cento quindi è è uno stop loss che che va benissimo sottolino anche la leva di questo certificato che è una leva 4,23 perché poi dopo voglio fare un parallelo con il prossimo prodotto che presenterò in termini di rischio il prossimo prodotto ha una leva più alta di questo ma in realtà è meno rischioso poi magari non me lo tengo per pochissimi minuti ti spiegherò perché sì un primo commento magari ecco da parte di riccardo sti convince questo prodotto scelto da nicola poi vediamo è quella il parallelo con il secondo il livello di rischio beh allora sì sicuramente la scelta insomma è una scelta ottimale visto quello che è la distanza della barriera nel senso che nicola ovviamente da trader e soprattutto da trader di prodotti a leva come trader dinamico fondamentalmente cosa fa va a vedere e va a studiare quello che è l'andamento di uno stock salon quindi l'andamento del sottostante e poi di conseguenza va a scegliere il prodotto che più consono le sue esigenze allora secondo me è un buon rapporto un buon livello tra quello che è la leva e quella che è la distanza la barriera perché perché ricordiamo che il turbo pen and ovviamente che è un prodotto a leva è un prodotto di definizione più rischioso rispetto ad altri ad altre tipologie di certificati quindi questo prodotto quando va quando va scelto questa tipologia di struttura questa tipologia di certificati bisogna sicuramente tenere a bada cosa quello che l'orizzonte temporale della posizione che si vuole tenere aperto quindi il timing il time frame scusami e di conseguenza quello che è il livello di strike o stop loss perché perché raggiunto questo livello di strike o di stop loss che come ha detto nicola è posto al 20 per cento in basso rispetto al prezzo attuale del sottostante la posizione si chiude in automatico quindi generando di conseguenza la perdita totale del capitale investito quindi sposo la scelta di nicola mi piace ovviamente occhio per chi sceglie queste tipologie di prodotti perché hanno un profilo dinamico e quindi una rischiosità molto maggiore rispetto ad altre tipologie di strumenti chiaro chiaro adesso andiamo a vedere poi il secondo perché ecco nicola se ho capito bene è una leva più alta ma un rischio più basso così sì sì ti spiego perché valentina tutto dipende dal dal sottostante concludo con amazon e dicendo che amazon si muove mediamente del 4,29 per cento al giorno è tanto per un azionario e i titoli azionari si muovono tranquillamente del 2 per cento al giorno 2 anche 3 per cento al giorno amazon fa 4,29 che poi un po' una caratteristica di volatilità più alta rispetto alla media delle altre azioni che che contraddistingue tantissimi titoli del del nasdaq del paniere tecnologico se io moltiplico 4,29 per la leva ho il movimento medio giornaliero che mi posso aspettare ogni giorno cioè il sottostante si muove del 4 cifra tonda ogni giorno in media la leva che io ho scelto per questo sottostante è 4 4 per 4 fa 16 quindi io come escursione media giornaliera sul certificato sul valore del certificato mi posso aspettare un 16 per cento o in salita o in discesa o in profitto o in perdita adesso vado in condivisione dello schermo e ti faccio vedere l'altro prodotto che è l'oro prodotto sul sottostante gold che l'ho scelto perché innanzitutto vado vado a farti vedere il grafico dell'oro così parliamo di quello che per me è il protagonista del 2023 ma in realtà era era già partito ed era già salito tanto dall'inizio di novembre grazie al fatto che finalmente il dollaro americano non ha più tutta questa forza che che ha avuto per un anno intero e finalmente l'oro è potuto ripartire verso l'alto e qui sempre banche centrali politica restrittiva da parte della fed significa che la propria moneta si rafforza quindi dollaro long adesso che gli operatori sanno che questa politica sta per finire dollaro short perché la politica monetaria restrittiva finirà il dollaro finalmente ha già iniziato a scendere a indebolirsi dalla fine di settembre inizio di ottobre e l'oro che è quotato in dollari e quindi ha una correlazione inversa rispetto all'andamento del dollaro americano guarda caso nello stesso momento in cui il dollaro ha iniziato a indebolirsi l'oro eccolo qua ha iniziato a rafforzarsi grande salita e salito tanto quindi anche questa discesa che ha fatto con le banche centrali di settimana scorsa direi che assolutamente salutare anzi ci dà occasione di di comprarlo e di metterlo in un portafoglio di medio periodo non proprio da investitore ma ma di medio periodo a prezzi più bassi e ho scelto questo certificato ho scelto questo certificato che ha una leva 7,20 quindi quasi il doppio di amazon è una distanza dalla barriera più vicina non è a meno 21 circa è quasi a meno 14 per cento quindi molto più vicino di amazon anche qua valentina stesso ragionamento e lo stop loss cioè il la barriera il knockout è a 1.622 arrotondato guarda caso i minimi che ha fatto l'oro dopo la crisi 2022 per il momento sono all'incirca a 1.650 quindi sono un pochettino largo sotto quel minimo mi va benissimo la logica è sempre quella di stare sotto un minimo importante e perché è meno rischioso perché l'oro come media di movimento giornaliera aggiornata a ieri a un 1,5 per cento se io faccio e qua torno sulla scheda del prodotto se io moltiplico la leva 7,20 per il movimento che fa l'oro in un giorno lo facciamo proprio con la calcolatrice alla mano mi viene fuori un movimento medio giornaliero del 11 per cento sul certificato sul prezzo del prodotto che ho deciso di acquistare è molto più basso del 16 17 anche io poi ho fatto i calcoli prima molto spannometrici circa 17 per cento invece che mi devo aspettare di movimento medio giornaliero su amazon quindi non guardate solo la leva si ma il movimento medio quotidiano esatto quindi bisogna sempre moltiplicare il movimento che fa in un giorno il sottostante per la leva del prodotto scelto allora li avete la vera volatilità del vostro prodotto interessante molto io sono qui con i calcoli la mano tirato fuori la calcolatrice riccardo per appunto avere tutti i parametri che dobbiamo tenere sott'occhio e mi è piaciuto anche il fatto che nicola abbia individuato il protagonista del 2023 non in tanti l'hanno citato ovvero l'oro mettendolo naturalmente in correlazione con il dollaro dollaro meno forte un pochino più debole rispetto invece ai massimi appunto del 2022 quindi l'oro che acquista importanza e vigore e che diventa quindi un prodotto da da tenere sott'occhio da sfruttare anche a livello dei certificates riccardo un tuo commento sì allora sicuramente lato sottostanti non possa aggiungere altro insomma nicola ha dato una view e comunque ha fatto un'analisi molto approfondita su entrambi sottostanti per i prodotti ovviamente lascio la scelta e la la spiegazione a nicola perché comunque spiega molto bene mi piace molto e lo ribadisco lo dico sempre mi piace molto comunque comunque come nicola va a spiegare e va a mostrare effettivamente la razio della scelta di un prodotto piuttosto che un altro perché perché ovviamente lui cosa fa oltre aver fatto l'analisi va a vedere effettivamente con questi calcoletti matematici se il prodotto se quindi se il certificato può andare in knock out all'interno di quello che è il range di contrattazione del sottostante quindi sicuramente è una scelta importante e scusami è un calcolo importante quello che fa che poi porta di conseguenza alla definizione di quello che è il prodotto il prodotto migliore non dimentichiamoci Valentina che questi appuntamenti ovviamente sono degli appuntamenti di formazione che sono volti a spiegare il funzionamento di un determinato prodotto perché ritorniamo su questi funzionamenti perché molto spesso ci accorgiamo che la clientela in generale viene fa si fa prendere un po da quello che l'andamento di mercato quindi entra in posizione magari non calibrando effettivamente quelli che sono i rischi e i benefici di un determinato strumento finanziario magari entra in posizione a ritardo tale per cui diciamo quando ci sono avvenimenti di mercato che possono scombussolare il normale andamento ci si va a prendere un po dal panico quindi soffermarsi un attimo guardare la struttura del sottostante guardare l'impostazione grafica del sottostante fare dei calcoli che possono essere anche dei calcoli abbastanza veloci magari come quelli che ha fatto Nicola ovviamente Nicola è un esperto quindi li fa più velocemente guardare di conseguenza quella che è l'offerta di prodotti e poi operare quindi definendo sicuramente anche quelli che sono i livelli chiave quindi livello di ingresso ma anche livello di uscita in stop e take sicuramente è il miglior modo il modo più efficiente per lavorare sui mercati con degli strumenti a leva e diciamo questo ci aiuta a minimizzare magari quelli che sono gli errori perché leggiamo sempre di più ogni tanto capita di leggere anche su giornali finanziari che la maggior parte dei trader o una percentuale molto alta di trader perde in borsa l'obiettivo non è perdere l'obiettivo è preservare il capitale guadagnare per sfruttare la volatilità però bisogna farlo con una certa logica una certa razionalità se si perde questo ovviamente il trade viene insomma nasce già con un difetto quindi è difficile aggiustarlo in corsa sì io guarda cito questo proposito forse l'avevo già fatto una frase di jesse livermore che dice uno dei più grandi famosi trader a livello della storia che diceva quando azzecchi sei operazioni su 10 sei un ottimo professionista non 9 su 10 6 su 10 esatto quindi certo bisogna sempre tenere presente questa compensazione tra operazioni in positivo e anche quelle naturalmente in perdita in negativo e saper bilanciare ma per poter bilanciare bisogna avere gli strumenti e la conoscenza per per poterlo fare e quindi in questo è molto importante noi ovviamente diamo degli spoiler diciamo così dei momenti di formazione che poi vengono approfonditi attraverso i vostri webinar i vostri incontri ecco questo assolutamente abbiamo visto i prodotti appunto presentati da nicola riccardo vuoi aggiungere qualcosa tu nella panoramica ecco dei prodotti della settimana ma guarda se abbiamo veramente un minutino voglio parlare di questo prodotto hai la possibilità di far vedere chiedo questo di far vedere il grafico di enel se hai questa possibilità magari insomma subito così vediamo un attimo e parliamo anche un po di quello che è il sottostante perché eccolo qua guarda ce l'abbiamo inquadrato perfetto benissimo allora come vediamo enel e lo io lo riprendo dal mio device enel comunque un sottostante in debolezza perché perché come tutti gli utilisti essendo comunque una società indebitata ha risentito di quello che è il rialzo dei tassi di interesse quindi comunque abbiamo visto che enel rispetto ad altri sottostanti è un'azione che comunque si trova ancora a quotare in debolezza oggi quota 5 34 eventi al momento corrente quindi diciamo che l'impostazione grafica rimane ancora abbastanza diciamo ferma su quello che era la situazione passata allora noi abbiamo strutturato e continuiamo a strutturare perché l'attività dell'emittente è quella di strutturare con costantemente degli degli strumenti abbiamo strutturato con emissione proprio oggi primo giorno di negoziazione questo cash collect su enel valentina e il codice isi lo ricordo a memoria cioè lo ricordo a voce così chi vuole lo può segnare di e 000 hc3 wnc5 lo stiamo vedendo esatto perché questo perché insomma questo prodotto che al momento si acquista leggermente sotto la pari quindi a 99 50 emesso proprio oggi ha una barriera profondissima quindi una barriera che posta al 40 per cento del fixing iniziale fixing iniziale di qualche giorno fa 5 37 e 90 la barriera di protezione 2 15 e 16 è una barriera che viene osservata alla fine della vita del prodotto quindi a dicembre 2025 ed è un prodotto che paga un coupon incondizionato mensile di 35 centesimi quindi valentina fondamentalmente chi può utilizzare questo certificato chi vuole una rendita di portafoglio costante quindi vuole comprare un certificato che gli paghi mensilmente una certa cedola indipendentemente quindi non preoccupandosi dall'andamento del sottostante che vuole però mantenere una buona protezione del capitale e una protezione capitale ovviamente osservata a scadenza perché la barriera capitale viene osservata in questo caso alla data di valutazione finale che è dicembre 2025 a dicembre 2025 si aprono due scenari se si trova al di so al di sopra di quella che è la barriera che ricordiamo barriera molto profonda certificato ripaga il nominale 100 più paga l'ultimo coupon nel caso in cui enel dovesse trovarsi al di sotto da barriera allora il certificato replicherà in termini di rimborso quello che è l'andamento del sottostante stesso quindi diciamo che perché ho scelto questo prodotto perché facciamo un esempio questi prodotti possono fungere da equity substitution cioè in una ottica di strategia la l'ottica è un certificato del genere di equity substitution ha come obiettivo quello di dire come investitore ok mi piace sottostante sono appassionato della società piuttosto che voglio rimanere su questa ma ritengo che nel sia ancora in debolezza quindi anziché andare direttamente sull'azione mi compro un prodotto derivato quindi un certificato è un certificato come questo che mi permette uno di mantenere la protezione del capitale fino a quando la barriera non viene rotta ma allo stesso tempo di incassare le cedole mensili allora sicuramente il prodotto è protettivo mi permetterà di incassare una certa reddita nel tempo qual è il difetto di questo prodotto il difetto questo prodotto che in caso di forte upside quindi forte rialzo di enel mi permetterà di guadagnare meno di quello che io avrò guadagnato investe avrei guadagnato investendo direttamente l'azione però mi permette di avere una protezione di capitale che come dicevamo abbiamo visto come nell'atteggiamento di investitori è sicuramente molto molto ricercata in questo ultimo anno non solo in questo momento ma in questo nell'ultimo anno c'è chiaramente perché abbiamo detto che ci sono dei segnali positivi di ripresa ma ancora tante variabili che entrano in gioco non solo finanziarie ma anche variabili che riguardano l'assetto politico l'assetto internazionale la guerra naturalmente adesso il 26 di febbraio celebreremo tra virgolette a nostro malgrado l'anno del conflitto esatto in in ucraina e tutte queste sono naturalmente variabili che dobbiamo tenere in conto e che gli investitori tengono in conto